La pandemia di Covid-19 rappresenta una grande opportunità per le mafie e lo snellimento delle procedure di affidamento degli appalti e dei servizi pubblici comporterà seri rischi di infiltrazione mafiosa dell'economia legale, specie nel settore sanitario. A lanciare il messaggio d'allarme, l'ultima relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia, che evidenzia come, a fronte di un rallentamento del 10% del PIL nazionale, nei primi sei mesi del 2020, le segnalazioni per operazioni sospette siano aumentate del 30%, un fenomeno che preoccupa e che è attualmente monitorato anche in Veneto. In effetti questo è un rischio concreto ma d'altra parte va detto per onestà che è un rischio immanente, nel senso che la pandemia ha solamente acuito questo rischio, non è che lo abbia generato ex novo. L'attività che noi facciamo è proprio un'attività anche a tutela di queste infiltrazioni che vanno ad incidere sulla legalità dell'economia e in ultima analisi vanno ad incidere sul benessere collettivo. Il rischio concreto è che molte aziende finiscano in mano alle mafie senza distinzione di regione. Il settore più esposto è quello sanitario, l'organizzazione criminale su cui si concentra l'attenzione, l'andrangheta, con capitali più cospicui. E poi c'è il tema dell'usura in forte aumento. Lo sforzo per contrastare questa china, sottolinea il generale Mainolfi, deve essere comune. All'inizio del periodo pandemico ci siamo confrontati con tutte le organizzazioni venete, con tutte le organizzazioni di categoria, da confindustria a confagricoltura, a confartigianato e così via. Tutti sono stati i nostri partner perché la lotta per la tutela della legalità è una lotta che si vince tutti assieme o l'altro perdiamo tutti assieme. Non si può pensare che sia solamente un problema di prevenzione di polizia, è un problema sociale che ha radici molto profonde e quindi solamente come sistema societario si può riuscire a contrastare questo fenomeno.